Allora queste slide sono dedicate alla valutazione del costo unitario di produzione dell'uva in un vigneto alpino allevato a Guyot. In Vale d'Aosta il Guyot è presente pur non essendo una forma di allevamento proprio tradizionale e attualmente si trova particolarmente diffuso in media valle con un sesto di impianto che comunque risulta più fitto rispetto ad altre zone di produzione tipicamente zone collinari. La sistemazione dei filari in Vale d'Aosta secondo questo tipo di allevamento è varia essendo i filari disposti a volte a ritocchino a volte a cavalpoggio cioè secondo le linee di livello. Per tutta questa diciamo per tutta una serie di condizioni locali l'accessibilità a questo tipo di vigneto in Vale d'Aosta è tendenzialmente migliore rispetto a forme di allevamento più tradizionali anche se tuttavia le condizioni non permettono il grado di meccanizzazione che normalmente si ritrova in altre zone di produzione tipicamente ad esempio nelle colline langarole. Quindi abbiamo la possibilità nelle aziende di utilizzare tutta una serie di attrezzature meccaniche come trattrici, trincia sarmenti, atomizzatori a basso volume oltre naturalmente agli atomizzatori a spalle e a tutte quelle attrezzature più minute che servono per le diverse operazioni in vigna. Si sottolinea comunque che non viene utilizzata generalmente la spollonatrice e la che sono invece macchine tipicamente diffuse in altre zone di produzione. E tutto questo ha come conseguenza che il carico di lavoro richiesto dall'ettaro di vigneto coltivato a Guyot in Vale d'Aosta è particolarmente elevato superando le 820 ore di lavoro per ettaro. E naturalmente questo determina un effetto notevole sul costo di produzione dell'uva che risulta caricata di questo costo, di questo onere legato alle ore di lavoro per circa il 37% del costo complessivo. Ecco questo ancora una sottolineatura che in altre zone per esempio nella collina piemontese grossomodo il carico di lavoro assorbito da un ettaro di vigneto è notevolmente più basso essendo grossomodo aggirandosi intorno alle 300-350 al massimo ore a ettaro e quindi questo spiega il fatto che ci sia un onere così elevato per quanto riguarda il lavoro. Brevemente le operazioni manuali richieste dal ciclo culturale del vigneto sono quelle note a chi gestisce il vigneto quindi andando dalla potatura invernale poi successiva, le legature, i trattamenti periodici, la trinciatura dei sarmenti e il loro asporto, eventuali bagnature perché in Valle d'Aosta negli ultimi anni si segnalano anche condizioni di particolare siccità in alcuni momenti e quindi può essere necessario ricorrere a questo tipo di intervento. Naturalmente la pulizia interfilare dall'erba e la pulizia tra i diversi ceppi, la potatura in verde che naturalmente segue nel corso del ciclo culturale, procede nei mesi in cui è maggiore l'andamento vegetativo della pianta e infine la vendemmia per arrivare poi a quelle che sono le operazioni ordinarie di manutenzione nell'impianto di vigneto. Naturalmente questi vigneti alpini che sono caratterizzati mediamente da piccole dimensioni hanno l'effetto di moltiplicare i tempi di lavoro richiesti. In questa slide arriviamo alla determinazione del costo del processo vigneto. L'ipotesi che è stata fatta anche nel manuale è quello di verificare questo costo con riferimento a una gestione del vigneto effettuata in economia, cioè da parte di un imprenditore che apporta al suo vigneto tutta una serie di fattori, in primis il lavoro ma anche i capitali investiti. Allora, secondo la tradizione dell'economia agraria, i costi da contabilizzare sono legati ai diversi fattori produttivi utilizzati nel processo che tradizionalmente vengono classificati in fattori produttivi a logorio totale, i cui costi confluiscono nelle cosiddette spese varie, fattori produttivi a logorio parziale alias investimenti, il vigneto in particolar modo e le macchine, i cui costi annui confluiscono nelle cosiddette quote, quote di reintegrazione, manutenzione e assicurazione e inoltre la remunerazione dei fattori primari apportati dall'imprenditore che nell'economia agraria vengono definiti benefici. Naturalmente anche il prelievo fiscale deve essere contabilizzato se presente e a carico del processo vigneto. Il processo per la determinazione dei diversi costi è stato definito anche un centro di costo, cioè un parametro a cui ancorare la determinazione di tutte le categorie di costo e questo centro di costo è stato scelto legato al lettero di vigneto a guio. Un'ultima precisazione è che tutti i costi qui elencati sono stati valutati per i fattori assoggettabili a IVA, IVA inclusa, in quanto abbiamo ritenuto che per il piccolo viticoltore, soprattutto per le aziende in regime di esonero, possa essere più significativo valutare il costo di produzione IVA inclusa, che è esattamente anche la percezione che ha il coltivatore, il viticoltore, nel momento in cui va ad acquisire i diversi input che gli necessitano per la gestione del vigneto. Il costo del processo vigneto è la base di calcolo per calcolare il costo unitario di produzione dell'uva, in quanto l'uva evidentemente è l'unico prodotto del processo e quindi rapportando il costo del processo alla resa produttiva riferita al lettero si ottiene direttamente il costo unitario di produzione dell'uva. Per quanto riguarda la resa vorrei sottolineare che possono essere fatte diverse ipotesi. Nel nostro manuale è stata fatta l'ipotesi di valutare una resa media considerando l'intero ciclo produttivo del vigneto, intorno ai 30 anni può essere anche un po' di più, però noi ci siamo riferiti a un trentennio che è la durata media, considerando che in questo trentennio ci sono anni in cui all'inizio la produzione è assente o estremamente scarsa per poi aumentare gradualmente, stabilizzarsi negli anni centrali e poi diminuire al termine del ciclo produttivo. La resa media è stata valutata intorno a 70 quintali a ettaro cercando di tenere anche conto di quelle che sono le annate meno favorevoli che si possono verificare in questo arco di tempo legate ad andamenti meteorologici che a volte possono ahimè compromettere la resa. Ma dal punto di vista del singolo viticoltore nulla vieta nel momento in cui il viticoltore volesse effettuare un calcolo all'azienda considerare la resa riferita all'annata. In questo modo è possibile aggiornando di anno in anno il costo di processo e aggiornando di anno in anno la resa è possibile valutare quello che è il costo di produzione dell'uva riferito all'annata in modo da tener conto di tutti i fattori che in qualche modo influenzano i costi del processo. Brevemente come quantificare gli addendi da andare a considerare nel costo di processo. Le spese varie sono una determinazione relativamente semplice perché è sufficiente considerare la quantità di fattori che devono essere a logorio totale che devono essere utilizzati sul lettero di vigneto moltiplicandoli per il loro prezzo IVA inclusa per quanto abbiamo detto. Le quote che si riferiscono al vigneto vengono imputate direttamente nel costo del processo e sono valutate in termini di quota di reintegrazione cioè l'ammortamento del vigneto stesso che viene determinato rapportando il costo dell'impianto cioè il valore a nuovo diviso la durata dell'impianto. Per questa determinazione vi rimando alla video lezione dedicata al costo di impianto e alla determinazione della quota di reintegrazione. La quota di manutenzione del vigneto è stata valutata intorno allo 0,8% del costo di impianto e la quota di assicurazione non è stata considerata ma se in qualche caso dovesse essere pagata un'assicurazione relativa al vigneto è bene tenerne conto. Noi abbiamo ipotizzato che in media in valle non venga attivato questo tipo di polizza assicurativa. Per quanto riguarda le quote riferite alle macchine e al fabbricato utilizzato per il ricovero vi rimando alla video lezione dedicata perché attraverso la procedura che è stata descritta è possibile effettuare un'imputazione indiretta al processo vigneto di queste quote attraverso il costo orario delle macchine. Per quanto riguarda il prelievo fiscale invece al momento l'IMU sui terreni agricoli non grava e quindi non abbiamo questa voce, non l'abbiamo considerata. Mentre abbiamo considerato il saldo IVA sull'IVA ceduta solo nel caso di aziende in regime speciale agricolo. Quindi quando il conteggio sia riferito a una piccola azienda in regime di esonero il saldo IVA per quanto non dovuto non è stato considerato nei costi. I benefici invece riguardano le valutazioni delle remunerazioni che vengono attribuite convinzionalmente ai fattori primari apportati dagli imprenditori. Allora noi convenzionalmente abbiamo utilizzato l'1% sul valore del vigneto quindi sul capitale immobilizzato nel vigneto che è costituito dal valore della terra nuda più il soprassuolo. Il beneficio scorte è stato valutato in modo indiretto attraverso il costo orario delle macchine quindi anche per questa voce vi rimando alla video lezione dedicata. Il beneficio di anticipazione riguarda la remunerazione del capitale di anticipazione richiesto dal processo è stato valutato questo capitale di anticipazione per passare al beneficio al 4% quindi si sono valutati come dire gli interessi al 4% sul capitale di anticipazione richiesto dal processo il quale capitale di anticipazione è stato valutato come il capitale circolante richiesto dal processo moltiplicato un periodo medio di anticipazione valutato in 6 dodicesimi. Il capitale circolante per chi non lo sapesse è costituito da tutte le voci di costo esplicite sopportate nel processo produttivo quindi sostanzialmente le spese varie, le quote, il predivo fiscale e tutti quelli che sono effettivamente costi sostenuti ad esclusione dei benefici al netto delle quote di reintegrazione perché classicamente nel capitale circolante le quote di reintegrazione non vengono considerati degli esborsi annuali sono un costo ma non vengono considerati come esborsi annuali e quindi non vengono valutati nel capitale circolante quindi il capitale di anticipazione è valutato come una frazione del capitale circolante assorbito dal processo per un periodo medio di anticipazione intorno a 6 mesi. Infine il beneficio di lavoro è stato quantificato valutando le ore di lavoro dedicate dall'imprenditore all'ettaro di vigneto moltiplicandole per una remunerazione oraria pari a 10 euro ora. Remunerazione che è lorda cioè comprensiva anche di un euro all'ora di contributi destinati all'imps quindi effettivamente la remunerazione dell'ora di lavoro netta per l'imprenditore è stata valutata intorno ai 9 euro all'ora. La procedura che io consiglio per impostare il conteggio del costo di processo è quello di elencare in modo analitico tutte le fasi culturali che si succedono durante l'anno nel vigneto. Per ogni fase culturale è opportuno andare a individuare le ore di lavoro manuale assorbite da ciascuna fase e la presenza eventuale di lavoro meccanico erogato da una o più macchine contemporaneamente e quindi vedete che qui ad esempio la concimazione minerale richiede un certo numero di ore all'anno senza però l'utilizzo diciamo di una macchina specifica impiegata mentre per altre operazioni come ad esempio non lo so il diserbo lungo la fila lo sfalcio dell'interfile eccetera possono essere richiesti invece oltre alle ore di lavoro distribuite su tutti gli interventi anche ore di lavoro della trattrice con agganciata un'altra macchina e quindi naturalmente questo ci permette di determinare in modo preciso e analitico l'assorbimento di lavoro nell'arco di un anno da parte del lettero di vigneto assorbimento di ore di lavoro manuale ma anche assorbimento delle ore di lavoro delle diverse macchine a questo punto siamo in grado di determinare tutte le diverse categorie di voce di costo relative al processo culturale per quanto riguarda le spese varie qui sono state elencate analiticamente tutti gli apporti riferiti al lettero per quanto riguarda i trattamenti qui indicati sono state valutati il numero di trattamenti e anche la quantità di prodotto chimico impiegato moltiplicato per il relativo prezzo ottenendo quindi un costo per trattamento e moltiplicato quindi per il numero di trattamenti il termine dpi sta per dispositivi di protezione individuali che sono necessari tutti gli anni per proteggere la persona che effettua i trattamenti così come il costo amministrativo legato al rinnovo del patentino e alla taratura della macchina per i trattamenti e avanti così per quanto riguarda tutti gli altri rapporti. Come avevo già anticipato nella video lezione relativa al costo orario delle macchine il costo dei carburanti gasolio e benzina a seconda delle diverse macchine utilizzate sono state invece contabilizzate in spese varie valutando attraverso il consumo orario e le ore di lavoro di ciascuna macchina valutando quindi quelli che sono gli assorbimenti effettivi in termini di carburanti e lubrificanti. Per quanto riguarda le quote come già detto la quota di reintegrazione e di manutenzione del vigneto sono state direttamente imputate nel computo del costo del processo mentre le quote relative alle macchine il beneficio scorte e i costi legati al fabbricato adibito al ricovero sono state indirettamente contabilizzati attraverso il costo delle macchine. Il quale costo delle macchine è stato individuato per ciascuna macchina applicando il valore del costo orario determinato su un'azienda che mediamente disponga di un ettaro di vigneto moltiplicato il numero di ore assorbite, ore di lavoro macchina assorbite dall'ettaro di vigneto. E qui vorrei ancora una volta sottolineare che nel caso in cui l'azienda abbia a disposizione un vigneto o comunque una SAO superiore all'ettaro è chiaro che queste potenziali ore di impiego delle macchine potrebbero aumentare facendo abbassare in modo a volte anche abbastanza sostanzioso i costi orari di ciascuna macchina. Ecco perché io sottolineo sempre che il costo unitario di impiego di una macchina, il costo unitario di produzione di un prodotto risente moltissimo delle condizioni strutturali dell'azienda che lo ha realizzato, particolarmente in funzione di come le macchine vengono sfruttate all'interno dell'azienda. Infine la contabilizzazione del prelievo fiscale a carico del processo vigneto che qui è stato valutato come saldo IVA sull'UVA dove il saldo IVA dovuto dalle imprese in regime speciale agricolo è uguale al valore dell'UVA moltiplicato questo 6% che deriva dalla differenza tra l'IVA alla cessione 10% meno aliquota di compensazione 4% e infine le remunerazioni degli apporti da parte dell'imprenditore a cominciare dal beneficio di lavoro valutato per un totale di 828 ore per ettaro a 10 euro, gli interessi sul capitale immobilizzato vigneto valutati all'1%, gli interessi sul capitale mediamente anticipato valutati al 4% che danno un totale di poco inferiore a 22.300 euro per ettaro che era portata a una resa produttiva di 70 quintali per ettaro fornisce un costo unitario di produzione pari a 3,18 euro al chilogrammo. Se l'impresa fosse in regime di esonero, questo saldo IVA sull'UVA non essendo dovuto dalla piccola impresa in regime di esonero, dovrebbe essere non contabilizzato e questo minor costo si riverbererebbe sul costo unitario di produzione dell'UVA in misura minima. Ho fatto adesso i conti e anziché 3,18 verrebbe 3,04 euro al chilogrammo che quindi grosso modo non sposta di molto le cose. Due parole sul risultato così ottenuto. Allora voglio sottolineare che il costo unitario di produzione risente fortemente di tutta una serie di elementi che sono stati utilizzati per la sua determinazione, a partire dalle ipotesi che si sono fatte per remunerare gli apporti dell'imprenditore. Noi abbiamo ipotizzato 10 euro per ora di lavoro, ma nessuno poteva impedirci di applicare 11 euro all'ora piuttosto che un altro importo. Un altro elemento che influenza molto il costo di produzione è la resa prescelta, che sia una resa media che tiene conto dell'intero ciclo produttivo oppure una resa di annata reale effettivamente verificatasi. E infine le condizioni strutturali aziendali che condizionano fortemente l'entità dei costi orari delle macchine che naturalmente entrano in modo diretto nel computo del costo di processo. Una volta che si è ottenuto il risultato finale costo unitario di produzione, questo valore deve essere confrontato con il prezzo riconosciuto all'uva e per quanto abbiamo detto riguardo alla contabilizzazione dell'IVA sui fattori produttivi assoggettabili, questo confronto va fatto sul prezzo riconosciuto all'uva, IVA inclusa, perché altrimenti non sarebbe un confronto omogeneo. L'imprenditore può trovarsi di fronte a tre diverse situazioni. Costo di produzione minore del prezzo riconosciuto all'uva, costo di produzione esattamente uguale teoricamente al prezzo di vendita in una condizione diciamo teorica che io ho considerato e infine costo di produzione maggiore del prezzo riconosciuto all'uva. Allora le due prime condizioni, quelle che ho evidenziato in verde, sono condizioni comunque positive per l'azienda, sicuramente più positivo che il costo di produzione sia inferiore al prezzo riconosciuto dal mercato all'uva stessa, perché significa che oltre ad aver remunerato tutti i diversi fattori produttivi che abbiamo visto, sia gli input effettivamente assorbiti e acquisiti dal mercato sia il pregio fiscale sia le remunerazioni per i fattori apportati dall'imprenditore, rimane ancora un margine che è appunto dato da questa differenza tra il prezzo di vendita e il costo unitario di produzione che permette come dire di avere un margine di profitto aggiuntivo per chilogrammo di uva prodotta e venduta. Nell'ipotesi che ci fosse una coincidenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita significa semplicemente che questo margine di profitto non c'è, però sono stati remunerati tutti i fattori assorbiti dal processo stesso, compresi gli apporti da parte dell'imprenditore e questo tutto sommato non è una condizione così negativa. Certamente la condizione diventa negativa, io l'ho indicata in rosso quando il costo di produzione diventi superiore al prezzo riconosciuto all'uva, perché in questo caso non viene a verificarsi un margine di profitto positivo, ma si realizza un margine, come dire, una perdita unitaria per chilogrammo di uva prodotta che va a erodere la remunerazione riconosciuta al lavoro. In pratica quando si dovesse verificare una condizione di questo tipo significa che il lavoro familiare viene pagato, per l'esempio che abbiamo visto in queste slide, meno di 10 euro l'ora comprensive di contributi orari. Quindi dovesse verificarsi una condizione del genere significa che quel prezzo dell'uva non riesce a remunerare il lavoro familiare assorbito per la sua produzione al valore ipotizzato nel conteggio.